La memoria è solo un punto di partenza. Ci vuole da parte di tutti un'assunzione di responsabilità per non lasciare spazio all'indifferenza e serve il coraggio delle azioni. Con il convegno di questa mattina all'hotel Poseidon di Torre del Greco si è aperta la tre giorni dedicata alla legalità e in particolare al ricordo delle figure di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a 30 anni dalle stragi di Capaci di Via D'Amelio. Ricco il parterre di relatori intervenuti a cominciare dal dottor Catello Maresca magistrato presso la Corte d'Appello di Campobasso. Partire dai ragazzi e quindi dalla consapevolezza di investire sulle giovani generazioni sia un dato fondamentale ormai acquisito. Però bisogna farlo bene, bisogna farlo con consapevolezza e anche con prospettiva. Io ho proposto nei giorni scorsi l'istituzione a livello nazionale, speriamo che il ministro dell'istruzione ne prenda consapevolezza dell'importanza soprattutto al meridione ma non solo, di una forma di insegnamento e quindi obbligatoriamente trattare nelle scuole questi temi. A partire dalla lotta alla criminalità organizzata, da chi l'ha fatta, come è stata fatta, con quanti risultati, che poi viene a fare anche un'operazione di chiarezza nei confronti delle modalità operative e anche dell'essenza probabilmente delle organizzazioni mafiose. Lei prima parlava di credibilità, le istituzioni oggi sono credibili? Diciamo che la gran parte lo sono, ci sono ancora ovviamente le istituzioni in cui invece c'è connivenza, c'è contiguità, purtroppo gli scioglimenti di amministrazioni dalle nostre parti sono all'ordine del giorno e anche su questo bisogna intervenire, bisogna intervenire in maniera rigorosa per ridare alla politica anche una visione diversa che è quella della naturale predisposizione a fare le cose nell'interesse dei cittadini. Si parte dalla memoria ma serve impegno e responsabilità da parte di tutti? Assolutamente sì, la memoria è solo il punto di partenza, è chiaro che bisogna ricordare ma bisogna ricordare per fare, bisogna ricordare per essere più incisivi, bisogna ricordare perché quegli errori anche laddove ci sono non vengono ripetuti, dovremmo avere una strategia di aggressione alle mafie che sia fatta non tanto e non solo di giornate commemorative ma anche di giornate di vittoria, di giornate di obiettivi raggiunti e di cose positive da raccontare. Una tre giorni voluta dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'istituto Falcone Scauda. Ricordiamo due uomini dello Stato che hanno scelto chiaramente da che parte stare, lo facciamo con il patrocinio, colgo l'occasione per ringraziare Maria Falcone, la sorella del magistrato Giovanni Falcone che attraverso la sua fondazione ha voluto riconoscere il patrocinio a questa nostra iniziativa. Lo facciamo in collaborazione con l'istituto comprensivo Falcone Scauda, uno di quei plessi porta proprio il nome di Giovanni Falcone, lo facciamo mobilitando la città, lo facciamo insieme ai nostri ragazzi, insieme all'associazionismo, insieme a quelle forze sane che hanno come i magistrati Falcone e Borsellino scelto da che parte stare. Bisogna partire dalle giovani generazioni anche in territori come i nostri, è importante educare i giovani alla legalità e al rispetto delle regole. Ci vuole un cambio di mentalità, io sono convinto che questo cambio di mentalità possa arrivare soltanto dai nostri ragazzi, dalla scuola che ancora rappresenta un muro invalicabile che la scuola è ancora baluardo di legalità. Sono particolarmente contenta di questa collaborazione con l'ente comunale e realizzare un convegno di tale rilevanza. Io ho porto un po' la voce di tutte le scuole cittadine. Come spiegare agli studenti la parola legalità? Rifaccio a delle parole di Maria Falcone che ho sentito proprio stamattina. La lotta alla mafia passa per la cultura, allora la scuola, ma non solo. Tutta la società civile deve assolutamente far diventare la cultura, il sapere, la conoscenza come il volano verso la legalità, la libertà e l'onestà. Per il convegno di stamattina avete voluto un parterre di relatori di alto profilo? Ai giovani non possiamo dire frasi fatte. I giovani hanno necessità di capire e di vedere l'agito. Allora io mi auguro attraverso i nostri esperti, attraverso le persone che ospitiamo stamattina, domani, dopo domani, di rappresentare in maniera concreta ai giovani e agli adulti come poter realizzare davvero una società migliore, un mondo migliore. La lotta alla mafia passa per la cultura e bisogna riflettere sui dati. Lo scorso anno sono stati fermati oltre 16.000 minori, di cui circa 6.000 sono campani. Io credo che abbia ragione Don Luigi Ciotti quando dice che occorre sostituire la parola legalità con la parola responsabilità, chi non è per la legalità. La parola responsabilità significa vincere l'indifferenza, l'indifferenza è abolia, l'indifferenza è vedere un fatto e dire me ne fotto, guardare dall'altra parte. E poi dobbiamo impegnarci per togliere la manadopora ai promotori della camorra, della mafia, dell'andrangheta. Le do un dato giornalistico, sociale. L'anno scorso c'era un po' di Covid in Italia, eppure 16.611 minori in Italia sono stati fermati, accompagnati dai genitori, portati nelle comunità, in un carcere, affidati ai servizi sociali. Di questi il 46,7%, cioè 6.504, sono campani. Noi se non interveniamo, questa è la paranza dei bambini, questa è la paranza e la manovalanza della futura camorra. Dovresti avere tantissimi assistenti sociali, ne avete quattro, partiamo male. Bisogna dare a questi ragazzi una strada alternativa? Io dico la prima strada alternativa la deve dare la politica. La politica deve capire che tra il dire e il fare non c'è di mezzo il mare, tra il dire e il fare c'è di mezzo il coraggio, il coraggio delle azioni, il coraggio di provvedimenti.